Ciao, ciao, ciao Solbizzo, come va, come va? Tutto ok? Facci vedere la maglietta. RAPA TANI! Che ne so du mila, ma dai, amicole dei carabinieri. Eccolo. Ma mi faccio pare! Cos'è che ti fanno? Eccolo guarda. Eccolo guarda. Allora, che è un carabiniere, no? De guardia, no? Viene un brodo, un brodo da fumo. Senta se viene un brodo da fumo. E insomma, allora il marescialo. Un po' impietosido, che dice? Dai, vi è reto che piove. No, no, piove che qua. RAPA TANI! RATATULLI! RATATATZZI! È un puntato, no? Che è un puntato? Che dice il marescialo? Non so se è che è un puntato. Si, un puntato. E senta marescialo con una macchina che ha 300.000 km. Cioè, vorrei anche vedere, ma nessuno me le crompa. Senta cosa che è? Che nessuno me le crompa! Che cosa posso fare? Marescialo! Allora, marescialo mi dice, ascolta, vada a sto meccanico qua, che è anche un amico, non è bravo. Adesso potete fare i rasoi chilometri. No, non si fa. Va bene, che fa? Va bene, che fa? Allora, va dal meccanico, il giorno dopo, il tono in tutto montato. Marescialo, l'è proprio bravo il suo meccanico. Guarda qua, la macchina è sulla gara 20.000 km. Bene, che fa? Allora, a quanto l'ha vendito? Eh no, me la teo mille quasi nuova. RAPATINI! RAPATATZZI! La moierda è un carabiniere, no? Facciamo a sommaria il telefono, no? Sì. Se lo sa la fa. Facciamo a sommaria il telefono, no? Eh, ok, ok. Eh, ciao Giannarnando! Sì, Giannarnando. Allora, purtroppo, no? Purtroppo arriverò in ritardo. Qua sta fermando la cua lunghissima e non so che ora arrivo. E fa? Osti, ma allunga quanto? Eh che ne so, sono la prima. RAPATINI! Allora no! Allora no, che è un marino, eh? Insomma no, gli devo farsi la doccia insieme, no? Senta cosa gli devo fare? La doccia insieme, no? Ok, va bene, ok. A un certo punto, sulle campanelle, ah, ding dong! Eh, insomma, la moier va fuori dalla corsa dalla doccia, si mette un sugaman lì, così, no? Va fuori, e che è su vicino di casa. E su vicino di casa alle guardate, che fa? Ascolta, ti do 500 euro, se ti fa cascare il sugamano. No. Insomma, la che pensa su, tacca la fa cascare il sugamano, che l'altro le guarda in cima e in fondo, tacca gli da 500 euro. Era un po', disemmo, un po' sconvolta, un po' stranita, la torna su, indoccia dal suo marino, e la dì, però, 500 euro così a bocca assuta, no? E il suo marino che fa? Chi che era? Ah, che era Giannarnando, il nostro vicino di casa, abbontanato i 500 euro che mi doveva. fifteen AMA! Oh, Rabottini! Una donna, no, che la vai in camera. E cavando i scrittori si va a Maria, mi processorsamos la prima persona. Sono poi cose che dà? Si, se lo sa che dice. E sai? Fammi Lisboa una vera donna. Sì! No乃. Una Città. Ma prendete una cosa, questo è accusate. Ma ora la sostiene che sono massa ficca naso, almeno che era scritto così sul suo diario. E due giotti, sono due assianotti, io in letto così e lui che fa, e Deglia, sono senza mudare. E lui che fa, babbo, non te le lavo. E due mici, no, che seccata, no. Senti cosa gli fa, il seccata, e Giannarnando, ciao, tutti così si chiamano. Dove eri tu stamattina che non ti ho mai visto al bar? Sono appena tornato a un viaggio di piacere. Ah, no, capo, dove state bene? Compaio a mia socia all'aeroporto, un rapatini, un rapatassi. E un tipo, no, che il 31 di dicembre, Poreto ha fatto un turno massacrante in fabbrica, Poreto ha lavorato, e torna a casa del corso per riuscire a festeggiare, lui l'ultimo del l'ultimo del lano. Rappatini! Mamma, mamma, ma perché dicono che noi altri cinesi siamo tutti uguali? Ehi, ragazzo, guarda che tua mamma è quella lì in fondo. Ma per piacere! Ma per piacere! Ma per piacere! Ma per piacere! Che due tipi, no? Che si è perso nel deserto! Che si è perso nel deserto, no? Siete così, ha fatto? Che si è perso nel deserto! Che si è distrutti dalla famina! Che sai che ha una famina! Ah, sì, sì! E uno gli dice, Giannarnando! E dai, dai! Tutti così! Guarda, guarda, dirti due robe! Una buona notizia e una cattiva notizia! Da quale punto che parta! Anche l'altro che fa? Eh, Giannantenore! E che fa? Dime prima quella cattiva! Eh! Anche Ancoma e Remo Sabia! Eh, vabbè! Dime quella buona! Però guarda quanta che ne è! Rappatini! Rappatati! Prima di saldarvi voleva dire che ho fatto un incidente con una macchina! Eh, sono andato, sono edicola! Sono andato su tutti i giornali! Rappatati! Anche questa non era male! Rappatati! 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 Capito! Sì, grazie! Scusa che so il telefono! Ehi, ciao Giannarnando! Ciao! Ciao! In collaborazione con... Oxigenia! Acqua arricchita d'ossigeno! Autozai! Agenzia matrimoniale! Subito amore! Vignola termoidraulica! Lucanoleggiopiattaforme.it